E senza induci, si riparte. Allora, infatti ho detto un paio di strafalcioni drammatici nel precedente video, quindi di conseguenza lo rifaccio da capo. Eccomi qua. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un manuale che da un po' di tempo mi è rimasto dietro e che mi scampanellava, che volevo finalmente finire. Ho deciso di affrontarlo a quattro mani con tutta la forza e sono arrivato in fondo a The Seclusium of Orphone. Tadà! Modulo per Lamentation of the Framing Princess, il nome corretto è The Seclusium of Orphone of the Fervision. E soprattutto opera realizzata da Vincent Bacher. Ora, parliamone un po'. The Seclusium of Orphone è un manuale completamente in bianco e nero di 160 pagine. Avrà, penso, due illustrazioni dentro. E poi tutto il resto è testo. Ecco, due illustrazioni, perfetto, eccole finite. Un paio di illustrazioni, tutto il resto è testo, una valanga di testo. Non ha neanche una regola. A parte due pagine sulla fine, che poi vi racconterò che sono estremamente interessanti, però adesso non ha nemmeno una regola. Ed è un'enorme, enormissima catena in continua di tabelle e selezioni, tabelle e selezioni. Intanto, cos'è un Seclusium? Il Seclusium molto figamente l'hanno spiegato sul retro. Vedete? Spiegato come si può spiegare la sintassi di una parola, fondamentalmente. Quindi, Seclusium, un posto dove un mago si ritira per portare avanti le sue maestrie. Seclusium, un posto di magia e plasma, ok? Di potere grottesco e orrori e tesori e passaggi per altri mondi. Un posto che, quando abbandonato dal suo mago, diventa un luogo fantastico per le avventure. Questo è rapidamente quello che c'è scritto qua dietro, che non è altro che, come dicevo, la spiegazione di cos'è un Seclusium, e anche la spiegazione del manuale. Il manuale contiene tre Seclusium, ok? Quindi tre fondamentalmente torri del mago, luoghi del mago, e tutta la storia che lo circonda, che lo permea, fino a che non è di fondamentalmente viene abbandonato dal mago. Ora ci arriverò, è molto interessante, c'è le sette state di un Seclusium all'inizio. Sono tre Seclusium e poi, più che altro, più di metà del manuale sono tabelle per generarli. Con un'enorme e incredibile quantità di fantasie per farlo. Le scorreremo tra un attimo, ma prima di tutto volevo spendere una parola su Vincent Bacher. Come vi dicevo, l'autore, che penso che avete già sentito tantissime volte, è Fantasma Assassini, Dungeon World, ok? Paolo di Bad Apocalypse, Vincent Bacher, ci siamo, è lui. Si sente perché di tutto il manuale che non ha una regola, tranne le House Rules. Ecco, alle House Rules, ragazzi, ho trovato una delle cose più fantastiche che non è mai capitato nel gioco di ruolo. Praticamente trasforma tutti i check di percezione che si fanno normalmente nei giochi, anche ose, quindi di endy style e la modificatore su D20, ok? Prende tutti i tiri di percezione e li modifica. Dicendo, tutti i tiri di percezione che fai, li puoi tranquillamente modificare in questa maniera, basandoli fondamentalmente su modificatori di caratteristica con il sistema del Powered by the Apocalypse. Se cerchi di capire qual è una situazione, per esempio, puoi tirare 2 di 6, modificare il tuo modificatore di saggezza e puoi vedere chi è in controllo qui, chi sta cercando, chi sta avendo il dominio, qual è la situazione. Un tiro fondamentalmente di una mossa di Powered by the Apocalypse. Ma se lo vuoi fare, per esempio, in un combattimento, per cercare di comprendere come si muove l'avversario, un tiro di percezione, lo puoi fare, lo fai con il modificatore d'attacco. Quando cerchi di capire che tipo di personale è davanti, lo fai con il modificatore di carisma. Quindi con questa banalissima idea, cioè usa il modificatore della caratteristica su 2 di 6, oggettivamente ti trovi ad averci più o meno le stesse condizioni di gioco che hai su giocare a un Powered by the Apocalypse. E ci fai tutti i check di percezione. A parte queste due pagine, che vengono in manuale, punto. Il resto di manuale è una bomba. In realtà che cos'è? Come vi dicevo, 3 seclusium fondamentalmente, un attimo che faccio scendere il nostro inquilino. Eccoci qua. 3 seclusium, come vi dicevo, e le regole per crearli. Il primo è proprio quello che dà il titolo al manuale, cioè ovvero The Seclusium of Orfone e delle tre visioni. Orfone è il mago, la maga esattamente, Orfone è esattamente la maga che ha questo seclusium, e tutta la storia che c'è dietro il seclusium è il setting che ti va a creare, come proprio un luogo per farci le avventure. Ti dà un'enorme età di pezzi modulabili, che te non devi più oltre che mettere all'interno di una mappa, che è sul fondo, e hai creato un enorme setting per giocare un'avventura. Ce ne sono altri due, in fondo le regole per crearli. E questo è quanto. Il manuale, se lo vedete, quando scorrete il manuale, è questo. Tabelle. Tabelle a selezione multiple. Dove di fatto per ogni singolo punto o passaggio, per esempio, il seclusium, che è il secondo seclusium, è il seclusium di Brachirre del mare lontano, parte con il seclusium di Brachirre del mare lontano, è profondo in un'antica foresta del Cienni, degli Asnic. A prima impressione è scegliene due. Aerosso, pieno di radici, sussurrante, sorridente, organico, odoroso, etereo, classico, ingombrante. Scegli due. E da quello ti dai setting. Passi dopo. È stato costruito, scegli uno. Su un gruppo di tombe molto antiche, da qualche parte non specificato, scegli uno, scegli due. In questa maniera tu leggendoti il tuo seclusium, fai le selezioni come quando crei le schede di un Power of the Apocalypse, e ti crei il tuo setting. Manuale. Pagina parte 1. Overview. Come usare il manuale. E subito dopo abbiamo il concetto, ovvero, le fasi di un seclusium. Questo, fondamentalmente, è l'unica parte d'ambientazione che c'è. E dice, i maghi si ritirano nel seclusium per cercare di portare la loro magia ai livelli più alti, agli acumi massimi, a fare delle ricerche estreme. Non esiste un seclusium che non passa da queste sette fasi. Possono muoversi in qualche maniera di loro, ma tutti i seclusium passano da queste sette fasi. Noi ci interessa solamente la fase numero 5, che sarebbe la fase vulnerabile, in cui il mago non c'è e il seclusium è libero, che però contiene ancora le sue ricchezze e le sue difese. Poi, effettivamente, in questa idea molto, molto geniale, ti fa vedere come qualunque luogo di magia e di potere, nell'arco della storia, abbia una specie di automatico percorso gaussiano, questo è molto interessante per creare le ambientazioni, per queste due singole fasi, in realtà, tra crearlo, ampliarlo, ricercarlo, abbandonarlo, scomparire, tornare, tutta una serie di percorsi che portano alla nascita, alla morte, di un luogo magico di avventura. Subito dopo, il manuale parte con i seclusia, e quindi, il primo, proprio quello che vi raccontavo di Anzi, il seclusium di Orfone, e poi seguono gli altri, i Brachin, e per l'ultimo, se non sbaglio, dovrebbe essere il, ve lo dico anche subito, i Brachir e Bostu. Sono i tre seclusio pronti. Per fare un seclusium ci vuole lavoro. Ho avuto un'idea, per leggere le tue pagine, cominciare a comporti il tuo mago, la storia del mago, qual è il suo obiettivo, quali sono le persone che ci sono l'introduzione e il seclusio, perché si comportano così. Crearlo completamente vi richiederebbe quasi una giornata di lavoro come master, tra le poche parole, però alla fine vi porta il risultato ad averci, di fatto, un setting per giocarci tante avventure. l'ho trovato difficilissimo da leggere, difficilissimo, e anche perché usa un linguaggio che è molto lontano dalle mie capacità inglesi ed è veramente molto ricercato e molto molto evocativo in ogni singolo tema che va a utilizzare. Quindi, affrontatelo preparati a trovarvi una sfida impegnativa, di una buona conoscenza dell'inglese, mi sono tolto tante volte in mano con il traduttore a cercare i dettagli, le parole, le traduzioni di chi a me completamente sfuggivano, non sto per dirvelo, però è stato veramente interessantissimo, fantastico, ed è un modo completamente diverso, completamente diverso di pensare a un manuale, che non mi era mai successo. Stop! Questo è quanto. Siclusimo morfone! Ciao!